Buonasera, siamo giunti alla conclusione del primo turno per quanto riguarda la semifinale e il concorso della Salremo. Qui ci sono le tre semifinaliste. Da dove vieni? Da Ribera, in provincia di Agrigento. Come ti chiami? Maria Chiara Marotta. Tu come ti chiami? Da dove vieni? Detana Minjiguerra e vengo di Favara, provincia di Agrigento. Marotta Gloria, sono di Favara, provincia di Agrigento. Quale canzone hai portato? Ho portato una cover di Elpi, però con un testo tutto in italiano. Io ho cantato la cover di Loredana Bertha e il mare d'inverno. E penso a te di Battisti. Come è stata questa esperienza? L'esperienza è stata bellissima, anche perché abbiamo avuto modo di conoscere gente importante. Abbiamo avuto anche l'opportunità di entrare tre sere all'Ariston grazie al Club Denko e quindi di ascoltare tutti questi artisti. E come professori alle audizioni chi c'era? Come maestri? C'era Stefano Senardi, Maurizio Caridi e Massimo Cotto e molti altri. Quando eravate alle audizioni? Eravamo 800 divisi in due gruppi, 400 questa settimana e 400 la prossima settimana. C'è qualcuno che vorresti ringraziare per essere arrivata in semifinale a dare Sanremo Tour? Sì, ringrazio la scuola di Cando Arcadia e di Angela Maniglia che mi ha dato l'opportunità di partecipare al concorso. E la vocal coach Giusisciara per avermi preparata. Un saluto a tutti dall'Ariston e di Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo!